Musica Sabato 4 febbraio 2023, buongiorno, ben ritrovati, buon inizio settimana dalla redazione di Tere Regioni in apertura della nostra rassegna stampa abbiamo un servizio guerra del trasporto pubblico locale e la Rivera ancora contro la Regione, il 7 ci sarà il consiglio monotematico, sulla vertenza intervengono CGL e CISL un macabro banchetto e danni dei lavoratori, il servizio è di Valentina Ciarlante Non bastavano le criticità della sanità, ora è la guerra del trasporto pubblico su gomma che sta assumendo toni velenosi ad agitare i molisani e i loro diritti sempre più messi in discussione Lo scambio di battute al vetriolo tra la Regione che ha assicurato il pagamento degli stipendi ai 150 dipendenti dell'ATM e l'azienda continua L'amministratore delegato Giuseppe Larivera ha inteso contro replicare all'assessore ai trasporti Quintino Pallante che aveva evidenziato come non esiste alcun sistema contro l'imprenditore che ha lavorato aveva detto Pallante con tutti i governi regionali Ebbene Larivera ha ricordato che la Corte dei Conti ha impugnato il rendiconto di bilancio e che ha bacchettato la Regione proprio sulla questione trasporti in particolare sui ritardi per le procedure del bando volto all'affidamento della concessione Intanto sul tema intervengono CGL e CISL che con una nota altrettanto dura hanno parlato di una vicenda dei contorni inquietanti definendola un macabro banchetto ai danni dei lavoratori Macabro perché si strumentalizzano le difficoltà e la rabbia di chi pur lavorando non percepisce il salario, si legge nella nota Ai danni dei lavoratori perché si palesano interessi trasversali che esulano da ogni forma di tutela e mirano a salvaguardare una situazione consolidata negli anni che faceva comodo a tanti I sindacati infine puntano il dito contro un'azienda che definiscono indifendibile L'argomento sarà oggetto di un consiglio regionale monotematico in programma martedì prossimo 7 febbraio in via 4 novembre a Campobasso E poi diamo lettura anche dell'ultimo bollettino Covid diramato dall'azienda sanitaria regionale del Molise Fortunatamente non si registrano decessi e nemmeno nuovi ricoveri sul fronte dell'emergenza coronavirus Dimesse due persone dal Cardarelli di Campobasso Re ricoverati totali sono 3 tutti in malattie infettive 10 invece nuovi casi su 153 tamponi processati 3 persone positivi al molecolare invece 7 quello antigenico Indice di contagiosità il 6,5% I guariti sono 21, le attualmente positivi 1.256 Iniziamo la nostra rassegna stampa partendo dal regionale primo piano Molise Nel centro pagina troviamo la questione della sanità Radioterapia Lasrem detta le nuove regole Approvato il protocollo operativo per la prescrizione dei trattamenti Piano terapeutico i medici del Gemelli lo compilano e lo trasmettono al Cardarelli Per la validazione ma in clinica prevale l'incertezza Cefaratti, Amuso Duro, Toma e l'azienda vanno fermati Proprio sul tema andiamo all'interno di primo piano Molise Radioterapia alle ricette da lunedì pensa il Cardarelli L'Asrem approva il protocollo e mette nero su bianco Per il paziente non cambierà nulla Il consigliere Cefaratti insorge, Roma fermi, Toma e l'azienda Qui ci sono a rischio le cure Dati sanitari accessibili nel centro pagina a tutti Caso al garante non si esclude la class action Falla nel fascicolo elettronico, la casa dei diritti Tanta propaganda e nessuna sicurezza Covid ai minimi storici L'abbiamo letto anche in apertura della nostra rassegna stampa 10 positivi tre assistiti, il monitoraggio cala in incidenza ed indice RT Nel fondo pagina contact center, planet call Fra le prime 100 aziende, partner fuori regione Ma presto una nuova sede anche a Campobasso Torniamo in prima pagina sempre sul regionale primo piano Molise Per dare uno sguardo anche alle altre notizie Nel centro pagina fascicolo sanitario elettronico Falla nel sistema dati riservati visibili a tutti Bufera sulla regione, la casa dei diritti scrive al garante, i nazionali della privacy I legali valutano una class action nel taglio laterale al veneziale Poco personale, Lucio Pastore prepara le valigie I venezuelani sono l'unica speranza Il dibattito poi autonomia differenziata Toma insiste, a ragione Zaia Occasione di sviluppo per il mezzogiorno Inquinamento aurema del 5 Stelle In contrafuccia interroga Picchetto Fratin Viabilità via Dottosente Chiuso la scuola calcio di Agnone Perde iscritti Campobasso colpito da un pezzo di marmo Mentre lavora Operaio 46enne che va in ospedale Nel fondo pagina il Molise che si fa valere Planet Call fra le prime 100 aziende italiane Nel settore contact center In programma senzioni E apertura di una nuova sede anche a Campobasso Nel taglio laterale come sempre il punto A firma di Gennaro Petrecca Se lo Stato è credibile I cittadini si fidano Il taglio alto come sempre dedicato allo sport Coppa Italia Tifosi pronti a dare la carica ai lupi Domani c'è la finalissima Serie D Vasto Girardi Sfida l'ultima della classe Tolentino Si potrebbe giocare ad Agnone Basket La Magnolia va all'assalto Della rivelazione del campionato Sassari Nei quotidiani regionali molisani Ci spostiamo a quelli abruzzesi Con la prima pagina del centro Nel taglio alto Perquisizioni a tappeto dopo il rogo Pescara La risposta delle forze dell'ordine Controlli anche a Montesilvano Nel centro pagina Telefonate moleste senza più freni Aumentate nel 23% Bullismo a scuola Arriva la polizia Chieti Gli allievi restano un'ora fuori per protesta Poi l'incontro con preside ed agenti Nel taglio laterale A tira in casa una quindicene La violenta sarà processato Ancora con i quotidiani regionali Questa volta con la prima pagina Abruzzese del messaggero Nel mirino i furbetti Delle tasse Blitz della guardia di finanza Al comune di Avezzano Acquisiti dati muettari Degli ultimi anni Si sospettano scontri O esenzioni totali A favore di contribuenti amici Operazioni contro la malavita Pescara e Monte Silvano sotto assedio E la risposta Alla rapina a casa De Cecco L'Aquila Scacco ai pusher Del dopo terremoto Professionisti Moratori Fra i clienti Nel taglio laterale Capodanno d'Oro di Pescara Spesi 200 mila euro Costi lievitati Oltre alle previsioni Solo per il concerto Della Bertè Ben 120 mila euro spesi Dei quotidiani regionali Ci spostiamo adesso A quelli nazionali Come sempre Partendo dalla prima pagina Del Corriere della Sera Nel taglio alto C'è la politica nazionale Cospito Accuse E querele Scorta per Donzelli E due vice alla giustizia La Premier Tutti siano responsabili I cortei Per l'anarchico Al 41 bis Del Mastro al PD Voi inchinati Ai boss La replica Denunciamo Nel centro pagina Le scuse Il caso E la spiegazione Strumento meteo Un pallone spia cinese Sorvora Gli Stati Uniti Blinken Non andrà A Pechino Nel taglio laterale Il viaggio Meloni Flessibilità Sui fondi Dell'Unione Europea Le aperture Di Scholz All'Italia Dal Corriere della Sera Uno sguardo Anche alla prima pagina Della Repubblica Nel taglio alto Ancora la politica Destra Assalto al Partito Democratico Del Mastro I dem Spieghino L'inchino I mafiosi La replica Meloni si dissoci Ma lei tace E rilancia Minaccia anarchica Restiamo uniti Tra gli alleati Monta l'irritazione Manifesti sciocca La sapienza Scorta al sottosegretario Donzelli E a Ostellari L'attenzione al colle Ancora nel centro pagina Mappamondi Cina Pallone spiene Di USA Blinken Rinvia La visita Che invece Era programmata A Pechino Dalla Repubblica Diamo uno sguardo Anche alla prima pagina Del messaggero Uniti contro il terrorismo Nel taglio alto Appello di Meloni A Berlino L'Italia sotto attacco Ora siamo tutti responsabili Scorta per tre politici CPM In prima linea Su cospito Roma e Milano Blindate per i cortei Attacco al 41 bis Quelle analogie Con la strage Con la strategia mafiosa Del 1993 L'ingenuità del PD Il rischio di tornare Al periodo buio Degli ultimi idioti Ucraina Italia Francia Sampia Primavera Pallone spia cinese Sulle basi USA E Blinken Non va più a Pechino Nel taglio laterale Non all'autonomia L'allarme di Confindustria Per le grandi opere Bonomi L'elenco delle materie dovute E vecchio Sull'energia Serve Una riflessione Dal messaggero Uno sguardo Anche alla prima pagina Del tempo Nel taglio alto Paese sotto attacco Causo Cospito Appello di Meloni All'unità Cresce la minaccia anarchica Non è il momento Di dividersi Del Mastro Donzelli E Ostellari Finiscono sotto scorta Salvini Avanti senza paura Manifesti shock Alla sapienza Oggi Roma blindata Per il corteo Non autorizzato Nel centro pagina La politica estera Pallone sonda Cinese Vola Sori USA Pentagono in allarme Pechino Si scusa Muro Anticinghiali Sulla colombra Troppo animali Sulla strada L'aggiunta stanza 2,5 milioni Per le reti Di confine Nel taglio laterale Parla il ministro Zangrillo Cambia L'amministrazione Con incentivi Ed assunzioni L'annuncio Di italiani A giugno Nella capitale Vertice ONU Sull'alimentare Dal tempo Uno sguardo Anche la prima pagina Del fatto quotidiano Nel centro pagina La guerra Raddoppia Ecco Armano Caso cospito Imbarazzo Fratelli d'Italia Minaccia Ed il mastro La premier Tace I suoi Sottoscorta Nel taglio alto Intervista Giuseppe Conte Leader del Movimento 5 Stelle Meloni in fuga Ma Fratelli d'Italia Ammette A rischio Lo Stato Ancora con i quotidiani Nazionali Questa volta con la prima pagina Del manifesto La partita del pallone Pallone Spia cinese Sopra Il montana Su una base Mistilistica Gli Stati Uniti Annullano Il viaggio in Cina Del segretario di Stato Blinken Crisi diplomatica Tra due superpotenze In conflitto Nell'altro conflitto In Ucraina Zelensky Spince Per entrare In Unione Europea Ma l'Unione Europea Frena Nel centro pagina Fratelli d'Italia Senza freni Contro i DEM Del mastro In chino ai mafiosi Ilaria Cucchi Da cospito in carcere Condizioni allarmanti Da Milano a Roma Anarchici E non contro Il 41 bis Nel fondo pagina L'intervista D'Amato Da Lazio Un no all'autonomia Ancora autonomia L'imbroglio Calderoli Di forma Contro la carta Migranti Alla deriva Senz'acqua Dieci morti Su un barcone Dal manifesto Uno sguardo Anche alla prima pagina Della verità Nel taglio alto Lo scandalo Lo scandalo dell'università La sapienza La commissione a Chiave Nel taglio laterale Nel esimo pacchetto Di sanzioni E 35 milioni Di lampadine Il piano Unione europea Per piegare Putin Crepe All'IS Riconsiderare i vaccini Tre scienziati Dell'istituto superiore Di sanità Pubblicano uno studio Che smonta I dogmi Effetti collaterali Dei sieri Mortalità covid Inferiore A quella dell'influenza Cure La maggior parte Delle infezioni Va evitata Della verità Uno sguardo Anche al quotidiano Economico Del sole 24 ore Big tech La frenata All'arma Wall street Nel taglio alto Ma il rally Per l'intelligenza Artificiale Bonus casa Il conto Per lo stato Va oltre I 110 miliardi Bitsy E Fortless New York Insieme Per la torre Del lusso Nel centro pagina Poi nel taglio laterale Ancora violazione Territoriale Pallone Spia cinese Sorvola USA Blinken Rimanda Il vertice Programmato A Pechino Prima di chiudere Come sempre Uno sguardo Anche al quotidiano Sportivo Della gazzetta Dello sport Tutto Dedicato Nel centro pagina Al derby Della madonnina Che si giocherà Domani Domani Inter Milan Chiede Chi perde Rischia grosso Il derby Spacca Squadra in ritiro Inzaghi Non può permettersi Il settimo K.O. Clima teso Intorno a Pioli Ecco tutte le mosse Dei due tecnici Ancora nel taglio laterale Le altre notizie Alle 18 Murigno Collempoli Zaniolo In malattia Roma Niccolò Stressato Certificato Di un mese Ma è nella lista UEFA Il caso di Maria E dubbi Della Juventus Lancia segnali Di rinnovo La società Frena Pesa Il futuro Incerto Prima di chiudere Diamo lettura Anche del nostro palinsesto Alle ore 11 Conto alla rovescia Alle ore 13 Piazza Molise Colle a Volturno Alle 13.30 La nostra informazione In diretta Con il telegiornale Alle 16 Conto alla rovescia Alle 18 Ti racconto Il Molise Isernia Alle 19.30 Torna la nostra informazione Con il telegiornale Alle 21 Paese mio Alle 23 L'ultima edizione Del nostro telegiornale E non mi resta che salutarvi Ovi ringrazio Per averci scelto A tutti voi Auguro buon proseguimento Di giornate E buon fine settimana